Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta vortice al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono crema di pistacchi, farina di tipo 00, farina di pistacchi, zucchero, yogurt al pistacchio, olio di semi di arachidi, uova, lievito per dolci, vanillina, sale e granella di pistacchi. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Rimire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo yogurt al pistacchio, le uova, l'olio, la farina di pistacchi, la farina 00, il sale, la vanillina, il lievito. Ed azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 4. Versare il composto in uno stampo da 24-26 centimetri ben imburrato. Con la sac à poche, partendo dal centro, formare un vortice facendo due stradi. Decorare con granella di pistacchi. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. La torta è cotta. Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Torta vortice al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie per la visione!